C'era un'altra replica prenotata dal Presidente Raffaele Pono. Vorrei dire due cose. Io volevo dire una cosa però non c'è la persona a cui volevo dirla, quindi che è Marchi. Però se mai... Ah eccolo lì, ecco. No ecco, siccome lui si presta sempre a queste cose, è importantissimo. Siccome oggi abbiamo sentito un balletto di cifre. Sapere esattamente oggi quante sono le agenzie IPI che in funzione, quanti sono i punti Bersani in funzione, perché Sandy ha detto 12.000, un altro ha detto 1.000, quindi sono cose essenziali da capire. E poi c'è un ultimo problema che non è stato toccato, che non è piccolo. In Italia ci sono 3.000 barra 5.000 centri di raccolta dati. Sono dei luoghi di scommesse dove si va e si gioca e la scommessa viene fatta direttamente via computer in Inghilterra o a Malta o in qualunque altro posto. Il Ministero delle Finanze ha fatto cause a tutti questi qua. Sono stati chiusi questi posti, sono stati chiusi ripetutamente, ma siccome hanno vinto sempre le cause, quindi ci sono funzionanti 3.000 barra 5.000 punti vendita che se gli si dà la televisione, per esempio, adesso butto là, ma se gli si dà la televisione possono vendere anche il prodotto IPICO, oltre che quello sportivo. Loro hanno... Era stata prevista una sanatoria per questi qua, con 20.000 euro ciascuno potevano essere legalizzati, parlo di due mesi fa, poi questi hanno detto ma sì, fino adesso abbiamo lavorato, abbiamo vinto tutte le cause, ma perché dobbiamo tirare fuori 20.000 euro? E infatti non hanno tirato fuori i 20.000 euro, felicemente. E quindi... Però ecco, anche questo è un discorso abbastanza importante, perché tutti questi punti vendita sono... Adesso, per esempio, esce il betting exchange, che è un altro gioco ancora. Esce anche quello, però non è previsto sulle scommesse IPIC, e bensì sulle altre. Quindi, voglio dire che ogni giorno prendiamo un ceffone, lo incassiamo e buonanotte. Quindi, credo... Ecco, sì, lo so, ma però c'è un mondo di giocatori. Insomma, le risorse, se ci sono 5.000 punti vendita del CTD, vuol dire che c'è chi si gioca, eh? Se no, non ci sarebbero. L'ultima cosa che voglio dire, per tranquillizzare Luisa e i suoi, che vorrebbero un ricambio generazionale, la Lega prevede di nominare attraverso elezioni i suoi rappresentanti, e quindi è il momento, come adesso, mi pare che la politica italiana si sia ingiovanita tantissimo, forse fin troppo anche, ecco, forse fin troppo, però con le elezioni, che è un metodo democratico, si fanno delle scelte molto precise di ricambio che io mi auspico. Grazie. Aldo, volevi dire qualcosa? Siamo alle battute finali, e se qualcuno ancora ha qualcosa da dire... Allora, Guido, giusto per non fare confusione, i 5.000 punti CTD hanno rifiutato il collegamento alla Sogei. Il che vuol dire che se accettano scommesse Ippiche noi non vediamo una lira. No, non funziona. Perché ti hanno detto di no? Perché se si collegano pagano le tasse. Così le tasse non le pagano. Quindi non è questa la soluzione. Torno all'altra osservazione che ho fatto. I punti vendita in questo momento, non c'è bisogno di marchi, te lo dico io a memoria. I punti vendita in questo momento sono 4.000. Di questi 4.000, se accettassero Ippica, ognuno di questi punti perderebbe dalle 6 alle 10.000 euro all'anno con un solo terminale. Vuol dire che i 4.000 non sono operativi. Ce ne sono operativi 800, 700. Gli altri non accettano Ippica. Adesso mi è arrivato un messaggio di un punto mio che è scollegato dall'Ippica e mi faccia rifare il collegamento perché io comunque ho due o tre clienti un centinaio di euro al giorno l'incazzo. Due o tre clienti. Un centinaio di euro l'incazzo. Questa è la situazione. Quindi la televisione deve andare in chiaro, assolutamente. Però facciamo funzionare quello che abbiamo perché le altre cose non hanno un significato nostro. Già 800 punti. Io ti ricordo che erano 300 i punti che ci sono scommesse. Quindi 800 sono già quasi tre volte. Se funzionassero quelli sarebbe già un grande vantaggio.